Sapete che in questo 2023 abbiamo parlato più del Milan che non di femminicidio, più di Sanremo che non di Michela Murgia e più di Meloni, anzi molto di più, che non di Salvini? Questi sono alcuni risultati del report che The Repubblica ogni anno a dicembre per fotografare come è andato l'anno degli italiani sui social media, le cose di cui abbiamo parlato di più e quelle che più abbiamo apprezzato. Per esempio è venuto fuori che in quest'anno il post più popolare in assoluto su Facebook, con oltre 664.000 interazioni tra like, commenti e condivisioni, è stato quello con cui Alessandro Del Piero ha salutato l'amico e collega Gianluca Vialli. Su Instagram ovviamente l'analisi ha confermato lo stradominio dei Ferragnez, ma soltanto se ci sono di mezzo i figli o la loro vita privata. E comunque non ai primi posti della classifica, perché quelli se li sono aggiudicati Italia's Got Talent con una clip di Kaby Lame da quasi 4 milioni di interazioni, poi Vogue Italia con la presentazione della nuova collezione di alta gioielleria di Bulgari e la Juventus con il video di un dribbling di chiesa. Se siete curiosi e volete sapere chi c'è nella top 10 dei post più popolari o quali sono stati gli hashtag più utilizzati su X e TikTok, allora andate sul sito di The Rev, sezione Newsroom e lì trovate tutti i risultati del report.